Si stanno limando gli ultimi dettagli con la campagna che si prepara al V-Day di domenica, come è stato ribattezzato l'avvio della campagna vaccinale in contemporanea in tutti i paesi dell'Unione Europea. In regione arriveranno 720 dosi divise in 144 fiale e distribuite in sette presidi sanitari. Ospedale del Mare, Cotugno, Cardarelli, Moscati di Avellino, il San Pio di Benevento, il Ruggi d'Aragona di Salerno e il Sant'Anno e San Sebastiano di Caserta. In Campania sono 27 i centri attrezzati per le iniezioni. L'Ordine dei Medici di Napoli si è anche detto pronto a sanzionare i camici bianchi Novax. I primi ad immunizzarsi saranno proprio loro, medici, infermieri, operatori sociosanitari e lavoratori in prima linea negli ospedali. La prima fiala sarà per Giuseppe Bianco, caposala del Covid Residence di Ponticelli. 46 anni, di origini siciliane, l'infermiere ha lottato non solo contro il Covid ma anche contro un tumore. Ho visto tanti colleghi uccisi da un nemico invisibile. Questo vaccino è come una corazza, le sue parole. Intanto resta alta la guardia sul fronte contagi. Sono 791 le persone positive segnalate con il rapporto tra infetti e tamponi al 7%. Altro boom di guariti, oltre 3.000 nelle ultime ore, ma nel bollettino dell'unità di crisi si registrano anche 25 decessi. Intanto sono ripresi collegamenti con Londra per consentire agli italiani di rientrare. Controlli anche a capo di chino, previsto il tampone alla partenza e all'arrivo, con obbligo di due settimane di quarantena.